L'Aquila è ancora incredula dopo la tragedia di ieri pomeriggio quando un ultraleggero è precipitato a circa 300 metri dalla via superficie di Poggio Picenza e località Vicenne. L'area è sotto sequestro, anche il Veivolo. Un incidente terribile che ha costato la vita a Corrado Mancinelli di 70 anni aquilano, titolare di una gioielleria, vicepresidente dell'aeroclub, pilota molto esperto e conosciuto e a Maria Rita Vietri di 64 anni, ex dipendente del supermercato del centro L'Aquilone, anche lei grande appassionata di volo. L'incidente attorno alle 16.40, a poca distanza dal campo di calcio di Fossa dove era in corso una partita. I due erano decollati in mattinata dalla via superficie di Vicenne a bordo di un DF2000 di proprietà di Mancinelli stesso. Erano arrivati in Valdichiana, in provincia di Arezzo. Nel pomeriggio avevano fatto una sosta a Castiglione del Lago, in Umbria. La tragedia si è verificata in fase di atterraggio, tra le ipotesi quella del guasto meccanico oppure di un malore. Stando ad alcuni testimoni, il piccolo Veivolo avrebbe fatto una brusca virata U, per motivi ancora da accertare ovviamente, sarebbe precipitato colpendo e rompendo gli alberi sottostanti. Gli stessi testimoni avrebbero dato l'allarme sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Sanitari del 118 che hanno potuto fare soltanto l'accertamento del decesso dei due occupati. Procedono i Carabinieri. La via superficie è su un'area di proprietà dell'azienda di costruzioni Edimo ed è gestita dall'Aeroclub dell'Aquila. Alle nostre spalle c'è la via superficie qui nel comune di Poggio Vicenze. Le immagini del nostro operatore Donatello Ricci hanno mostrato che solo a 300 metri è caduto quest'ultraleggero. Doveva atterrare qui e qui in realtà nell'aviosuperficie che Mancinelli, esperto pilota, conosceva benissimo. L'ultraleggero non ci è mai arrivato. La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti come atto dovuto. Il titolare del fascicolo è il pubblico ministero Stefano Gallo. Un'altra inchiesta sarà aperta dall'ANAC. All'Aeroclub oggi c'è la giornata di chiusura settimanale, bocche cucite perché tutti sono ancora incredule per queste morti e ieri sera anche persone dell'Aeroclub, a quanto pare, sarebbero state ascoltate dai carabinieri. Mancinelli era molto stimato e apprezzato da tutti come la Vietri. Di certo c'è una comunità in lutto e famiglia nel dolore, eppure il sindaco Pierluigi Biondi ha espresso il suo cordoglio a nome della Municipalità.